Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di materiali dispersi già rimossi dalla carreggiata si registrano comunque 7 km di coda tra Firenze Sud e in Cisaregello verso Roma. Passiamo sulla FIPILI dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la strassigna in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Ancora in direzione Firenze e rallentamenti per lavori anche tra Lavoria e Ponte della Ovest e Ponsacco. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, anche qui rallentamenti a causa di uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di San Donato che attualmente è chiuso in uscita in direzione Siena. Chiudiamo con la viabilità della città di Firenze e possibili disagi a causa di un incidente avvenuto alla rotatoria di via Enrico Forlanini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!